Il settantesimo festival di Sanremo, celebrato con le luminarie di volare di Domenico Modugno in omaggio alla musica italiana, è volato davvero. Amadeus e il suo badante 2.0 Fiorello hanno compiuto un vero piccolo miracolo, portando la maratona festivaliera a percentuali di ascolto bulgare, basti pensare che la media d'ascolto è la più alta dal 2000. Maratona lunghissima anche in termini di durata giornaliera, che nonostante le polemiche e i giochi di ruolo, ha visto trionfare davvero la musica. Sono molto contento di esserci dentro fino al collo. In questo festival non è mancato proprio nulla, un range musicale davvero ampio e ben rappresentato, l'omaggio alla musica che ha fatto la storia italiana, un parterre di donne per tutti i gusti che non hanno fatto alcun passo indietro, anzi si sono divertite molto a stare sul palco. La cosa più bella che ti ha detto Valentino? Hai spaccato. Insomma, l'Amadeus bis sembra nell'aria, non resta che attendere. Giorgio Lupano, il 18 febbraio, un debutto importante alla Sala Umberto di Roma, spiegaci tu di che cosa si tratta. Si tratta di Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo squartatore, una storia che non è tratta da uno dei libri di Conan Doyle, non è l'adattamento di un romanzo di Sherlock Holmes, ma è una storia inventata nella quale si immagina che un personaggio di fantasia, appunto Sherlock Holmes, indaghi sui delitti realmente accaduti a Londra nel 1888 compiuti da Jack lo squartatore, questo personaggio di cui non si è mai scoperta veramente l'identità. La cosa interessante di questo testo, di questo spettacolo, credo che intanto affronta un genere che raramente si frequenta a teatro, ovvero il thriller, e tutto ciò che avviene in scena dà degli indizi a Sherlock Holmes, che interpreto io, ma sono gli stessi indizi che anche il pubblico. Il pubblico può arrivare a capire chi è Jack lo squartatore insieme a Sherlock Holmes, di solito ci arrivo prima io, perché so Sherlock Holmes. Una cosa che mi ha interessato molto nel costruire un pochino, ovviamente con il regista, con gli altri attori, il regista è Riccardo Arguanto, uno spagnolo, Sherlock Holmes ha questa caratteristica principale, scritta, creata da Conan Doyle, lui entra in una stanza, si guarda intorno e sa dire tutto quello che è successo in quella stanza, incontra una persona e dopo un minuto descrive la persona da cima a fondo. Cosa fa? Osserva. È un profondo e acuto osservatore. Noi oggi abbiamo perso questa capacità di guardare gli altri perché ci affidiamo tantissimo ai mezzi che abbiamo tecnologici, per cui noi non cerchiamo più una strada, la cerchiamo su Google Maps, non guardiamo più un monumento, ma leggiamo la sua descrizione sul telefonino. Tu che rapporto hai con i social? Così così, ho fatto un po' di fatica, ho aperto Instagram relativamente tardi, mi hanno fatto aprire quando ho cominciato a fare il Paradiso del Signore, un po' prima in realtà. E dato che hai nominato il Paradiso del Signore, allora parliamo almeno un attimo del grandissimo successo che questa serie ha e continua ad avere, che anzi sta crescendo giorno per giorno. Sta andando benissimo, siamo tutti contenti anche perché è un gran lavoro di tutti, autori, registi, troupe, attori, di tutti. È un grande lavoro che sta ricevendo un premio dal pubblico e di questo siamo grati. Ma allora è vero, tutte e tre di nuovo insieme, ma che meraviglia è questa? Esce nelle sale Gli anni più belli, per la regia di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stewart, Michela Ramazzotti e Claudio Santamaria. Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d'amicizia negli anni 80. Nell'arco di 40 anni prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva. Ma lo sai che significa? Che non abbiamo i soldi, riccafocce e sbattolo fuori da casa! Io t'ho sempre voluto bene, t'ho sempre voluto bene! Da ragazzine se siamo fatti un patto, ve lo ricordi?